Il sistema bancario del credito cooperativo è in fase di trasformazione e gli istituti che ne fanno parte adeguano le loro strutture alle necessità. Uno dei principali obiettivi è quello di garantire la rappresentatività dei soci. In tal senso la banca di credito cooperativo di Anghiari e Stia durante l'ultima assemblea dei soci ha formalizzato la nascita della consulta. In questo speciale analizziamo gli aspetti principali che la riguardano. La consulta è questo nuovo organo che ha costituito la banca di Anghiari e Stia, che noi che abbiamo fatto parte del primo organo costituito dalla banca di Anghiari e Stia che era il comitato Giovani Soci. Questo è stato visto come una continuazione del ottimo lavoro che è stato fatto dal comitato che ha avuto la fortuna di essere presidente per i primi anni della Costituzione. È un organo prettamente consultivo che serve sia alla banca per sapere il punto di vista dei soci, dei clienti, sia ai soci e ai clienti della banca per essere a contatto con una banca che è altamente collegata, altamente stretta al proprio territorio e guarda sempre alle esigenze dei propri soci in modo da poter crescere nello spirito cooperativo che è il valore fondante della banca. Marco Sarrini è il coordinatore del comitato Giovani della banca di credito cooperativo di Anghiari e Stia. Il progetto, l'idea di realizzare, di costituire questa consulta, come è stata accolta da voi. Sì, possiamo dire con orgoglio e con felicità che sulla scorta della bellissima esperienza, dei bellissimi progetti che abbiamo portato avanti come comitato Giovani Soci della banca di Anghiari e Stia, siamo stati lieti della proposta pervenuta dalla banca di dare vita a questo nuovo organo che si pone comunque in continuità con tutte le belle cose fatte in seno al comitato e quindi abbiamo accettato sia io sia Alessandro Marconi di buon grado di essere coinvolti in questo nuovo e importante strategicamente giusto progetto della banca, la consulta. Va detto che la nascita di questa consulta è stata ufficializzata durante l'ultima assemblea dei soci nel maggio scorso, però in effetti già se ne parlava da tempo. Se ne parlava da tempo, era un organo che era già presente in altre banche, in altri istituti di credito cooperativo e è un passo in avanti che viene fatto perché è stato visto appunto col lavoro del comitato che sono nate tante buone idee, tanti buoni progetti che hanno avvicinato sia la banca ai propri clienti, ai propri soci che viceversa e quindi visto che tutto questo è stato fatto con le idee dei giovani, la banca giustamente ha pensato di aprire questa possibilità anche ai meno giovani o ai giovani di secondo livello in modo da poter avere ancora più spunti, ancora più esigenze perché ovviamente nei giovani soci c'è lo studente, c'è l'universitario, c'è il dipendente, il piccolo imprenditore, hanno delle aspettative, hanno delle visuali, però le esperienze che possono portare tutti quanti i soci della banca sono ovviamente molto più ampe, molto più innumerevoli. Questo è un progetto che in fondo si pone anche in continuità con l'attività dei giovani? Sì, assolutamente sì. La banca si è accorta di voler estendere dei progetti che avevamo ideato e intrapreso con il gruppo giovani, intraprenderli anche a tutta la compagine sociale. La consulta infatti sarà l'organo di rappresentanza di tutti i 6.500 soci della banca di Anghiarestia, collaborerà con i giovani, faremo dei progetti congiuntamente ai giovani e porteremo anche avanti quello che era stato fatto in questi ultimi 5 anni. In particolare siamo doppiamente orgogliosi che la banca ci abbia chiesto di riprendere, dare slancio ed ampliare a tutti i soci anche sopra i 40 anni. Il progetto che avevamo lanciato ad Arezzo nel 2015, con l'evento nel Sala dei Grandi della provincia, che era il lancio del progetto Insieme per lo sviluppo. Questo progetto ha dato un sacco di soddisfazioni sia alla banca sia ai nostri ragazzi del comitato e quindi siamo ben lieti adesso di poterlo estendere a tutta la compagine sociale. Gli attuali componenti della consulta sono circa 20, anche se l'auspicio è quello di accrescere questo numero e di portarlo quantomeno a 35. Avvocato, lei è uno degli ultimi componenti di questa consulta, le domando per quale motivo ha scelto di aderire. Sì, io sono stato invitato dal mio collega e amico Marco Sarrini, spinto da, ho potuto vedere i risultati eccelsi del comitato dei giovani soci e sono stato invogliato a partecipare all'attività della consulta. Immagino che la tradizione del comitato dei giovani soci si possa poi consolidare anche nella consulta. Abbiamo detto che i componenti attuali sono circa 20, però l'obiettivo è di estendere ulteriormente questa rappresentanza, di portarla magari almeno a 35. Ma che cosa è possibile fare per entrare a far parte di questa consulta? Sì, è possibile, anzi è un invito formale quello che faccio in questa occasione. È possibile rivolgersi all'ufficio dei soci della Banca di Anghiari per prendere contatto con gli addetti e per avere conoscenza insomma delle iniziative della Banca e perché no insomma per partecipare direttamente alla consulta o al comitato dei giovani soci per gli under 40. La consulta in buona sostanza che cosa rappresenterà, che cosa rappresenta in fondo nell'idea della Banca? La consulta sarà un organo in questa fase particolarmente strategico perché sarà l'organo filtro, l'organo rappresentativo e l'organo di ascolto di tutta la compagine sociale. In questo momento dove la Banca di Credito Cooperativo di Anghiarestia come le altre banche di credito cooperativo toscane e nazionali è andata ad aderire nel gruppo bancario unico c'è ancora secondo noi maggiore bisogno di ascoltare i soci, ascoltare le loro esigenze e c'è soprattutto bisogno che i soci non si sentano in alcun modo né più lontani dalla banca né abbandonati. Quindi uno dei filoni di attività molto importanti della consulta sarà quello proprio di fornire uno spazio di ascolto a tutta la compagine sociale, ascolto delle esigenze, ascolto dei bisogni, ascolto di tutte quelle che sono le necessità o le paure dei nostri soci affinché non si sentano assolutamente abbandonati o non sentano comunque la banca più lontana perché questa è una banca comunque del territorio che dà fondamentale importanza alle persone dei suoi soci. Questo appunto insieme al progetto dello sviluppo di cui parlavamo prima dedicato un po' più all'aspetto dei nostri soci sotto il profilo imprenditoriale sarà l'altro filone importante di attività di quest'organo della consulta. partiremo con questi diciamo due rami di progetti. Da una parte un maggiore ascolto alle esigenze dei nostri soci e dall'altra cercare ancora di più di fare rete sul territorio a livello di impresa. Ecco ci sembra di capire che questo nuovo organismo avrà un'importanza notevole, rappresenterà effettivamente qualcosa all'interno della banca. Direi anche una rappresentazione in fondo generazionale? Esatto, anche un confronto generazionale fra chi come noi ha avuto la fortuna di poter partecipare al Comitato Giovanni Soci. Quindi può portare anche la propria piccola esperienza che ha avuto in questo campo e confrontarsi con le esperienze che hanno le altre persone che sono interessate a questo progetto perché abbiamo già fatto delle prime riunioni e sono già venute fuori dei confronti molto belli anche con persone che hanno avuto un'esperienza non solo sul territorio ma anche esperienze internazionali. Quindi ci hanno fatto capire le potenzialità che potrebbe avere questo progetto e siamo appena agli inizi. Uno dei primi progetti che è stato avviato dalla consulta della banca di credito cooperativo di Anghiari Estia si chiama Insieme per lo sviluppo e vorremmo saperne qualcosa di più. Sì, diciamo che la consulta è già entrata nella sua fase pratica di attuazione dei lavori e come dicevo prima abbiamo con grande nostro orgoglio avuto dal direttore l'imprinting per portare avanti questo progetto che avevamo già ideato e sviluppato insieme al Comitato dei giovani. Il progetto Insieme per lo sviluppo si propone il fine di creare un circolo virtuoso sul territorio tra le aziende soci della banca e i professionisti soci della banca. È un progetto che coinvolge la compagine sociale a 360 gradi in quanto ogni singolo socio dei nostri 6500 soci con la sua carta socio che viene consegnata dalla banca può usufruire di beni e servizi a prezzi agevolati dalle aziende e dai professionisti aderenti a questo circuito. Va detto che questo progetto si inserisce in un momento particolare per il credito cooperativo e per la banca perché siamo in presenza di una profonda riforma dell'intero settore bancario. Esatto, è proprio questo il punto. In questo momento di riforma che magari potrebbe sembrare che allontani un po' quello che era lo spirito del credito cooperativo che era un po' la banca del territorio, questo livello di concentrazione a livello nazionale poteva un po' sembrare che spostasse un po' gli equilibri. Forse questo progetto va proprio nell'esatta direzione opposta cioè nel far vedere che la banca invece è radicata sul territorio e le prime esigenze sono ovviamente la crescita del territorio, la crescita dei propri soci e dei propri clienti.